i fantasmi cupcake sono perfetti per festeggiare la notte di halloween la loro forma così originale stupirà tutti la ricetta che ho utilizzato è americana ingredienti per 24 fantasmi cupcake 125 g di farina un uovo 60 g di cacao 130 g di zucchero 170 ml di olio una bustina di vanillina mezzo cucchiaino di lievito per dolci mezzo cucchiaino di sale 200 ml di latte gocce di cioccolato per decorare ingredienti per il frosting al burro 180 g di burro 200 g di zucchero a velo una bustina di vanillina un cucchiaino di yogurt greco in una ciotola uniamo la farina il lievito con il sale ed il cacao mettiamo da parte con le fruste andiamo a sbattere insieme lo zucchero l'olio e l'uovo aggiungiamo anche il latte e la vanillina mescoliamo fino a far amalgamare tutti gli ingredienti aggiungiamo poco per volta gli ingredienti secchi agli ingredienti umidi mescoliamo bene fino a quando non ci saranno più grumi mettiamo i pirottini di carta nella teia per cupcake e versiamo all'interno l'impasto riempiamo i pirottini fino a metà cuociamo i cupcake in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 20 minuti ricordiamoci sempre di fare la prova stecchino quando saranno pronti togliamoli dallo stampo e lasciamoli da affreddare prepariamo il frosting ammorbidiamo il burro senza scioglierlo versiamolo in una ciotola insieme alla vanillina e con le fruste elettriche sbattiamo gli ingredienti fino a renderli spumosi abbassiamo la velocità delle fruste elettriche ed aggiungiamo lo zucchero a velo se il composto dovesse risultare troppo asciutto aggiungiamo lo yogurt greco mettiamo il composto tenuto in una sac a poche con il beccuccio tondo e andiamo a dare la forma ai fantasmi aggiungiamo le gocce di cioccolato per gli occhi grazie